Don Pietro Rescigno, un incontro di grande riflessione, Una vita in più, il titolo del libro, ma Una vita in più è quella che un po' tutti desiderano, guardano, aspicano, guardando oltre. Sì, certo, soprattutto se questa vita in più è caratterizzata e segnata da un evento così importante da cambiare anche proprio l'ottica di guardare la vita. Ed è quello che è successo a un sacerdote fiorentino, Don Gianni Castorani, che aveva iniziato un'attività bellissima e già molto famosa, quella delle sentinelle del mattino di Pasqua, che sull'invito di Giovanni Paolo II a Tor Vergata nel 2000 cominciò questa sorta di evangelizzazione attraverso i giovani per i giovani, ma un'evangelizzazione nei posti più impensati, sulle spiagge, nelle discoteche, nelle piazze, quindi voglio dire la possibilità veramente di incontrare tutti, quella che era la chiesa in uscita che in qualche modo auspica Papa Francesco anche, no? Ma questa vita così attiva di grande sportivo è stata segnata da due anni fa un ictus devastante che praticamente lo dava per spacciato e adesso lo racconta, quindi evidentemente il suo percorso è stato un percorso invece di rinascita, ma non solo una rinascita dal punto di vista fisico, perché ha recuperato totalmente quello che nessuno pensava potesse recuperare, ma ha recuperato anche in questa dimensione la capacità di leggere questi imprevisti della vita che molte volte ti schiacciano, ti annientano, come la possibilità di una vita che è molto più di quanto non fosse prima. Una vita in più, un momento di riscatto, le diceva, sicuramente può essere un invito alla riflessione perché non sempre bisogna avere un evento negativo per pensare a una vita in più, ma ci sono sempre i tempi per poter recuperare. Certo, questo è vero. Dico una cosa, noi sacerdoti siamo normalmente abituati a incontrare le difficoltà delle vite degli altri perché ce li confidano e perché in qualche modo noi diamo quella luce anche di lettura che viene dalla fede che ha la possibilità di dare alla propria vita una lettura diversa dalla normale. Quando capita a te sacerdote, allora è il momento per cui praticamente tu fai la prova del nove, di tutto quello che fondamentalmente testimoni perché l'hai sperimentato in un cammino, ma che diventa la tua personalità e penso che da questo punto di vista allora è in più anche per leggere. Quando diventa personale l'esperienza, diventa anche la possibilità di confermarti tutto quello che non sono solo parole ma è la realtà e quindi il rapporto con Dio nella vita di ciascun uomo diventa il fondamentale per leggere realmente tutta la realtà. L'appuntamento è per domani sera alle ore 20, l'occasione per incontrare l'autore, per poter riflettere con gli altri, l'occasione per rientrare a casa in maniera un po' più ricca. Un incontro interessantissimo, penso che getti luce anche sull'esperienza di ciascuno di quelli che l'ascolterà per rileggere la propria esistenza qualunque essa sia e soprattutto per renderla più ricca.